Per presentarci questa serata chiamo subito Francesco Cavalli che è l'idiatore del premio L'Aria Alpi e che in qualche modo ci presenterà il significato di questa serata. Intanto sono qui per portare il saluto del premio L'Aria Alpi che ha organizzato questo appuntamento a Bologna e anche con un po' di emozione perché è il primo appuntamento che organizziamo in questa città. Il premio L'Aria Alpi nasce 12 anni fa, io come ricordava Giorgio Tonelli sono una delle persone che 12 anni fa l'ha pensato insieme a Giovanni Tonelli che è qui presente in sala e a Pasquale D'Alessio che è il presidente dell'associazione che non è qui con noi questa sera ma che voglio ricordare perché siamo stati insieme 12 anni anni fa a pensare subito dopo la morte di L'Aria e di Miran avvenuta il 20 di marzo del 1994 a Mogadiscio di intitolare loro un premio con lo scopo e con l'obiettivo di cercare di continuare a far vivere un certo tipo di giornalismo oltre che continuare a far vivere la memoria di L'Aria e di Miran e del lavoro che facevano ma direi soprattutto del lavoro che facevano che è la cosa che da sempre ci rimane più a cuore anche rispetto proprio a L'Aria e a Miran. Giorgio ricordava sulla necessità che c'era, che c'è e che mi auguro continuerà ad esserci di dare voce, di dare prospettiva e sviluppo ad un giornalismo d'inchiesta che forse sempre di più stenta a essere evidente, a emergere, a trovare spazi forse anche a trovare giornalisti disposti a farlo perché non è poi così semplice, ci vuole del coraggio, ci vuole del tempo, ci vogliono delle scelte coraggiose fatte non solo dai giornalisti ma anche dai caporedattori, dai direttori che devono comunque decidere di investire del tempo. Ripensando a dodici anni fa quando il premio L'Arian Alpi è nato un po' con queste prospettive, con questi desideri, con queste anche ambizioni se vogliamo, avevamo davanti uno scenario che forse non è molto diverso da quello di oggi, anzi ne avrebbe da dire che forse oggi è anche peggio, salvo le rare eccezioni che sono presenti qui questa sera, che sono delle nobili eccezioni, mi pare di poter dire che soprattutto pensando alla televisione italiana che è un po' la caratteristica del premio perché il premio L'Arian Alpi nasce con l'intento specifico di essere un premio di giornalismo televisivo e pensando a come la televisione può essere uno strumento anche straordinario come abbiamo visto nell'esempio realizzato magnificamente da Sicfrido, uno strumento importante anche per fare inchieste, per fare approfondimento. Lo dico perché in diversi dibattiti che abbiamo fatto più volte si è detto che il compito della televisione è quello di dare l'informazione immediata, il qui ed ora, poi spetta ad altri, spetta alla stampa scritta, spetta ai libri fare le inchieste, l'approfondimento. Io credo che sicuramente spetta anche ai libri, ai giornali, ma anche la televisione ha un ruolo importante nell'approfondimento delle inchieste ed è il motivo per il quale il premio continua ad esistere, continua ad insistere in questa prospettiva e a cercare di dare spazio e opportunità premiando dei giornalisti come è avvenuto quest'anno, quest'anno nella edizione 2005, undicesima edizione del premio L'Arian Alpi, è stato premiato per la sezione proprio approfondimento e inchiesta, Sicfrido, con un altro lavoro, ma adesso possiamo dire che lo premiamo già in anticipo anche per questo, perché sicuramente è un lavoro che merita. E quindi siamo qui questa sera proprio per cercare di continuare e lo facciamo come dicevo all'inizio con anche un po' di emozione qui in questa città che riteniamo una città per noi molto importante, perché comunque noi siamo nati a Rizzone, il premio nasce a Rizzone, ma nasce in questa regione da subito con la volontà della regione Emilia Romagna che ha in questa città il suo capoluogo, la sua sede di riferimento e anche per noi lo è stato da sempre la sede di riferimento. Quindi continuiamo con l'incontro di questa sera una riflessione che ha radici antiche e che continuerà, mi auguro, anche nel futuro e che mi auguro possa continuare anche con spazi maggiori e magari con più relatori perché possiamo avere anche più giornalisti che col tempo possano scegliere di fare questo lavoro e più direttori che possano scegliere di dedicare e di impegnare giornalisti a farlo, cosa che ha fatto, mi piace ricordarlo, Roberto Morione con Prime News 24 perché è una scelta sia di Sintrido di lavorare, ma se non c'era il suo direttore che gli diceva dedicaci sei mesi per lavorare su questa cosa, probabilmente non avrebbe mai realizzato la cosa che abbiamo visto. Io ripasso la palla a Giorgio Tonelli per entrare nel merito del dibattito. La mia proposta è di fare una chiacchierata con i nostri ospiti proprio per consentire poi in un secondo giro anche a voi di porre domande interrogativi, curiosità anche. Cominciamo subito con Sigfrido Ranucci anche perché poi alle 23 ci dovrà lasciare perché deve andare per l'appunto a Strasburgo, mi pare. E proprio nel filmato a un certo punto c'è un testimone di Pallusa che davanti ai pochi parlamentari europei presenti dice speriamo che almeno voi giornalisti raccontiate quel che è successo. Ecco, tu l'hai fatto e ci puoi raccontare un po' come è nato questo servizio e come l'avete preparato, qual è stato lo spunto. Allora, buonasera a tutti, grazie, vorrei ringraziare il premio che ci ha dato la possibilità di proiettare il filmato per intero perché ricordo che in Italia non è stato possibile vederlo. Gli italiani se la stanno organizzando da soli, è la prima serata che sto girando in questi giorni l'Italia per seguire una serie di proiezioni di questo tipo. Sono contento anche di stare a fianco a dei colleghi prestigiosi come Fabrizio, Giovanni Maria e Alberto. Quest'inchiesta nasce da giugno, giugno del 2005, quando abbiamo saputo che c'era questa delegazione che usciva per la prima volta da Pallusa e che aveva con sé del materiale importante e ci siamo recati su appunto Strasburgo per cercare di intercettarli. Ricordo anche che loro hanno passati, prima di andare a Strasburgo hanno passati per Roma, avevano fatto una conferenza stampa che era andata anche quella semideserta o comunque non si era prestata molta attenzione. Appena abbiamo visto le fotografie che avete visto pubblicate e i filmati siamo rimasti ovviamente colpiti dal fatto che eravamo di fronte alla presenza di corpi che presentavano delle anomalie, presentavano dei corpi sfigurati che non avevano apparentemente ferite di arma da fuoco. Il primo problema che ci siamo posti è visto che comunque incappare in qualche trabocchetto in questi temi, anche in propaganda è abbastanza facile, il primo problema che ci siamo posti è di capire se effettivamente quei corpi fossero di Fallucia. Voi avete visto che alcune di quelle fotografie avevano un numero di identificazione e quel numero di identificazione ricorreva anche nei registri cimiteriali che sono stati redatti dalla supervisione americana, anche le foto sono state scattate dagli americani ed erano stati portati in un ospedale a Fallucia perché venissero riconosciute le salme. Questo significa anche che eravamo di fronte ad un bombardamento alla cieca perché effettivamente se neppure gli americani sapevano chi avevano colpito. Noi abbiamo pubblicato solamente il 10%, forse anche meno, delle fotografie che sono in nostro possesso, successivamente ne sono arrivate altre, ne abbiamo più di 300 e si tratta per lo più di corpi che raffiguravano dei combattenti, lo si vedeva un po' anche dagli atteggiamenti, dai giubbotti che indossavano ma anche di civili, di donne e di bambini e tutte comunque, tutte queste fotografie presentano delle forti anomalie. L'altra testimonianza che abbiamo raccolto era quella di una pioggia di fuoco che nel bombardamento di novembre era caduta dal cielo di Fallucia ed era caduta sulla popolazione che appunto era venuta, appena venuta in contatto con queste sostanze aveva cominciato a prendere fuoco e aveva difficoltà a respirare. Dopodiché ci siamo messi alla caccia di militari, militari statunitensi che potessero raccontarci quello che effettivamente era successo in quei giorni. Abbiamo fatto una ricerca su internet e ci siamo imbattuti in quello che era allora il soldato Ecle. Il soldato Ecle era il nickname di Jeff Englert che era uno dei due militari, quello che era stato a Fallucia, che è stato intervistato anche da un collega Mario Portanova di Diario, il quale mi ha aiutato a mettermi in contatto con il soldato Ecle. Dopo 40 giorni di mediazioni varie siamo riusciti a convincerlo a rendere nota la sua identità ed apparire in video perché una testimonianza di questo tipo era fondamentale averla in completa trasparenza e dare un volto e un nome soprattutto a questa denuncia. Siamo riusciti a sapere anche che sono state usate anche altre sostanze oltre il fosforo bianco, forse alcune molto più compatibili con le fotografie dei morti perché ce ne sono alcune che sono sicuramente riferibili tra quelle che abbiamo visto all'utilizzo dell'agente chimico, altre che probabilmente fanno riferimento ad un altro tipo di arma che è un'arma ad onde corte che fa un offerto tipo microonde che sappiamo che è stata usata con certezza anche a Fallucia. Ma non abbiamo la prova visiva. Io ero molto studente senza comunicazione. Ti voglio chiedere una cosa. Come ti sei posto rispetto a quei corpi? Cioè non avevi un po' il timore in qualche modo di violare la dignità di un corpo che comunque testimoni un atto di violenza. Questa era una delle discussioni principali. Il momento in cui siamo partiti con l'inchiesta io ringrazio pubblicamente il mio direttore Roberto Morione che mi ha permesso di andare in onda. Non è una cosa semplice anche visto le reazioni che abbiamo avuto sia ai RAI ma anche da parte di una parte della carta stampata perché noi successivamente abbiamo ricevuto più attacchi da alcune parti della carta stampata italiana più che dal pentagono direi. Ci siamo posti effettivamente un problema. Innanzitutto di capire se quei corpi effettivamente potevano essere dei corpi che avevano subito un attacco con l'agente chimico, fosforo bianco ed altre sostanze particolari. Abbiamo fatti vedere a degli agenti dei servizi che sono preposti ad andare sui luoghi di combattimento per capire che tipo di armi sono state usate e da alcuni periti medici, i quali ci hanno detto che alcune di quelle fotografie erano compatibili con l'utilizzo del fosforo bianco. Dopodiché la scelta era quella se andare in onda con le foto. Abbiamo detto sì, se questo argomento va trattato, va trattato in questo modo. È ovvio che quei morti rappresentano uno schiaffo alla coscienza dell'Occidente perché non si erano mai visti i morti di Fallugia, soprattutto non si erano visti mai i morti degli altri. Io ho voluto chiudere l'inchiesta volutamente con quell'immagine dell'uccisione degli iracheni attraverso un monitor, perché la percezione che abbiamo noi in Italia, ma anche in Occidente direi, della guerra è quella di un gigantesco videogioco. La guerra non è così, è purtroppo tutto quello che abbiamo visto prima. Fossilizzare l'attenzione sull'utilizzo del fosforo bianco secondo me è stato un po' anche diminuire il tipo di denuncia che veniva fatta da questo filmato, perché ci sono anche altre cose importanti. C'è per esempio la violazione di quelle che sono le normali regole di un combattimento, abbiamo sentito il militare raccontare dell'uccisione di bambini anche di dieci anni, abbiamo visto gente con il drappo in mano uccisa, abbiamo visto anche l'uso della croce, lo dico anche come cattolico, a me dispiace vedere la croce utilizzata come segno di legge nei confronti di un'altra religione o di una mosca. Ecco, di tutto questo non si è mai parlato. Si è parlato, si è dibattuto se è lecito o meno usare il fosforo bianco, se il fosforo bianco è un'arma chimica o meno. Poi su questo magari ne parliamo perché c'è una forte contraddizione. Parliamo un attimo della relazione dei media che c'è stato un po' in tutto il mondo. Questo filmato è stato richiesto da quante televisioni? Questo filmato è stato richiesto da News24 da 1100 televisioni. È stato in giro di tre giorni, noi abbiamo avuto quasi 5 milioni e mezzo di pagine scaricate dal sito internet ed è stato dibattuto un po' in tutto il mondo. In Italia non è stato fatto vedere per intero se non appunto trasmesso da News24. C'è stato fatto un processo tra virgolette da Ferrara, anche se poi... Ballarò l'ha proposto alla fine puntata. Ballarò ne ha mandato un'ampia sintesi, 10 minuti, però non c'è stato il dibattimento. Cioè io voglio dire, questo è un problema serio secondo me, quello che abbiamo denunciato. Il giorno dopo Al Jazeera ha dato una lezione di giornalismo a tutti, ha chiamato me il Pentagono e il portavoce dell'esercito iracheno in Iraq. Ci ha messo a confronto per vedere che cosa usciva da quello scontro. E alla fine ha fatto anche un sondaggio su chi ci aveva ragione, Re News o il Pentagono. E abbiamo stravinto alla grande. È ovvio che magari era un pubblico un po' interessato e selezionato. Però insomma è stato l'unico che ha fatto un'operazione di questo tipo. Ecco, è singolare questo aspetto. Tu prima sottolineavi l'uso di internet. Ecco, c'è stato in fondo un'interconnessione fra l'autorevolezza della televisione e... è però la capillarità di internet che in qualche modo rilanciava Re News e in qualche modo lo riproponeva agli altri media. Ma noi, siccome c'era già successo con altre inchieste, noi abbiamo andato in onda con l'ultima intervista di Paolo Borsellino, era passato nel silenzio più assoluto dei media. Avevamo fatto altri tipi di inchieste, anche a giugno avevamo denunciato un documento del governo italiano che è scritto sei mesi prima della guerra, dell'inizio della guerra in Iraq, dove si denunciava il fatto che il governo aveva già identificato il luogo di Naziria come luogo dove inviare le proprie truppe perché c'erano degli accordi coesistenti tra Saddam Hussein e Leni. E anche questo era passato sotto silenzio. Quindi, memori di questo fatto, abbiamo pensato di mettere l'inchiesta in maniera scaricabile sul sito in versione sia italiana che inglese che araba. E questo ovviamente ha favorito la diffusione del video, che voglio ricordare è stato preso un'analisi addirittura dall'Open Search Research, che è l'agenzia della CIA, istituita da John Negroponte, che ha cominciato a lavorare l'8 novembre del 2005, non perché fosse stata fondata ovviamente per noi, ma come primo argomento ha dovuto occuparsi dell'inchiesta di Rai News 24 perché stava viaggiando sui blog americani in maniera pazzesca, tanto da condizionare l'opinione pubblica americana. E poi ovviamente questa diffusione ha fatto sì all'estero, ha fatto sì che ritornasse dalla finestra e che anche alcuni media italiani se ne occupassero. Però voglio dire che se c'è stato un grande insegnamento da questa vicenda è stato quello della poca credibilità che la stampa italiana all'estero. Voglio ricordare che la missione del Pentagono avviene alla BBC, non alla Rai, o né altri organi di stampa italiani. Nel momento in cui la BBC si è mossa per chiedere al Pentagono se fosse stata vera, se fosse vero il bombardamento al fosforo, il Pentagono ha ammesso che era vero. Questo insomma la dice lunga anche... Il Pentagono ha smentito la smentita. Ha smentito la smentita, esatto. Un'ultima cosa. Nel filmato si vede il soldato americano che uccide il ferito. E quello è chiaramente un filmato realizzato da un altro soldato americano con una telecamerina. Era stato realizzato quello da un operatore embedded. Ah, un operatore. Esatto. Che è stato costretto a lasciare il gruppo degli embedded dopo aver mandato in onda quel filmato e a chiedere scusa poi pubblicamente di averlo mandato in onda. Questa la dice lunga sulla condizione in cui lavorano i giornalisti embedded quando raccontano una guerra. Ricordiamo che firmano un contratto che praticamente le rende parte integrante delle truppe che vanno in guerra. Ecco, però non pensi che lo sviluppo di internet intrecciato con l'uso delle telecamerine consenta uno sviluppo del giornalismo investigativo. Penso al filmato che tutti abbiamo visto nei giorni scorsi, il famoso annichilicilo. Quello che è interessante capire è che tutte le cose più interessanti di questa guerra, per esempio in Iraq, nascono non da un'attività giornalistica, ma nascono da fotografie tipo quelle delle torturi a Bucaribe scattate da privati. Lo stesso Fabrizio non è andato in vestito da giornalista, ma è stato costretto a nascondersi. Ecco, questo secondo me è lo stato della stampa mondiale, è un problema mondiale quello di oggi. Quindi per avere qualche informazione non bisogna essere giornalista, bisogna essere poi pagare per divulgare. Grazie Silfrido Ranucci. Come avete capito, l'idea di questa sera è di non teorizzarlo il giornalismo d'inchiesta, ma di raccontarlo appunto da testimoni, da persone che appunto hanno fatto giornalismo d'inchiesta. Silfrido ha lanciato Fabrizio Gatti che è un po' come si potrebbe definire lo zelig del giornalismo, nel senso che nella sua, è giovane ma nella sua ormai lunga attività ha fatto un po' di tutto. Non solo l'immigrato mi pare, anche il tossicodipendente, l'uomo che andava a vedere le bollette del gas o qualcosa del genere. Vabbè, insomma, raccontaci qualcosa di questo viaggio a Lampedusa. Ma intanto il tossicodipendente sì, ma senza consumo. Senza consumo ovviamente, un vero giornalista deve essere molto rigoroso. Anche lì non bisogna schierarsi. No, tutto questo è la conseguenza di una cosa che Silfrido ha detto, l'assoluta mancanza di libertà di informazione. La censura non si applica soltanto alla fine dell'informazione, nel processo informativo. Se viene impedita l'uscita di una notizia, ovviamente è un episodio di censura. E molto spesso noi, questo è uno dei casi, la RAI e altre tv nazionali non hanno mandato in onda questo splendido documentario. Ma molto spesso noi non assistiamo a fenomeni di censura vera e propria, identificabile così. Però c'è un modo molto particolare per esercitare la censura, impedire ai giornalisti l'accesso alle informazioni. Ora, da giornalisti noi dobbiamo porci un problema. Ovviamente entrare a Lampedusa non è una prova sportiva, nemmeno una prova di forza o per dire vediamo così cosa succede. Ma in sostanza è il risultato di un lavoro che deve muoversi su dei binari molto precisi. Primo binario, da giornalista a cosa posso fare riferimento per aggirare il divieto all'accesso a Lampedusa? Allora tutto nasce da questo, dall'applicazione, dal regolamento che riguarda i centri di detenzione di immigrati, secondo il quale i giornalisti, a Lampedusa perfino gli avvocati e molto spesso anche i parlamentari non possono entrare. Personalmente ritengo che uno Stato, essendo cosa pubblica, debba essere trasparente in ogni suo aspetto. Esiste anche una legge, la 241, per la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione che darebbe ragione a un giornalista. Su Lampedusa, su Viacorelli, 5 anni fa, ho dovuto usare lo stesso metodo anche lì, e su tutti gli altri centri, compreso due settimane fa a Crottone, dove sono stato fisicamente prelevato dall'esterno del centro espostato, in violazione poi vedremo di cosa, in questi centri non si può assolutamente entrare. E sapete qual è la motivazione che viene data dalle prefetture applicando un regolamento nazionale? È il diritto alla privacy degli immigrati rinchiusi in questi centri. Ora, queste persone che hanno perso ciascun o ogni diritto, anche quello di difesa, quello alla libertà, quello a stabilire il proprio destino e il proprio futuro, sono comunque garantiti di un diritto splendido, perlomeno in Italia, il diritto alla privacy. Questo diritto alla privacy però impedisce di esercitare altri particolari. Il primo, da giornalista, ovviamente anche perché c'è una questione. Alla fine di tutto questo bisognerà affrontare un processo, perché ovviamente se io fossi andato in via Corelli a Lampedusa dicendo sono Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso, ai Corelli ero del Corriere e ora dell'Espresso, mi avrebbero detto no, non puoi entrare. Perché? Perché c'è questo regolamento, diritto alla privacy, poi si inventano altri motivi, l'ordine pubblico e tante altre storie. Bene, ma io da giornalista lungo quali binari mi devo muovere? Questa è una domanda che tutti noi ci dovremmo porre. Beh, allora, il primo binario è un binario che è infallibile, perlomeno nei principi, che è la nostra carta costituzionale. Beh, quando si va a discutere con delle autorità, quando io ho scritto due settimane fa che a Crotone la polizia aveva violato gli articoli della Costituzione, beh, la polizia poi si è infuriata a quel punto, ma come una polizia anticostituzionale? Beh, lì lo è stato. L'articolo 21, sapete, sancisce e protegge il diritto all'informazione. Non solo. C'è anche la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che tra l'altro è stata firmata a Roma nel 1950, e l'articolo 10 stabilisce e protegge la libertà di circolazione delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati. E c'è una sentenza, su un caso preciso del 1996 della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che prevede che per i giornalisti di questo articolo debba essere applicato anche nella particolarità dell'andare a cercare le informazioni. Per cui, a questo punto, avendo scelto di fare il giornalista e non il prefetto, e quindi di non gestire i CPT, ma di in qualche modo esercitare un diritto che non è mio, ma è di tutti i cittadini a essere informati, beh, a questo punto dico, mi devo schierare dalla parte della privacy, quindi di questo divieto della prefettura, o mi devo schierare dalla parte della Costituzione italiana. E questa non è una domanda da poco, perché poi una condanna, io avrò settimana prossima, il 22 dicembre, il processo d'appello per Via Corelli, e in primo grado sono stato condannato a 20 giorni di detenzione. Probabilmente Lampedusa forse porterà un altro processo, ho saputo di essere indagato. Come conseguenze di questa attività ho subito la quasi demolizione dell'interno della mia macchina per due volte al valico di Trieste, perché io risulto Fabrizio Gatti aglias Roman Ladu, che tra l'altro il nome suona rumeno, Ladu, ma è sardo-veneto, vi giuro, è sardo-veneto, temendo di prendere il nome di un cittadino per bene rumeno in Italia, di guarrovinargli il futuro, ero andato a scegliere Ladu, il nome, sull'elenco telefonico di Nuoro, dicendo finisce Perù, come in Romania, scegliamo questo nome, e Roman, ho detto, ma perché escludere il nord-est? E ho preso il numero, il nome Roman, dall'elenco telefonico di Vicenza, e tanto è bastato. E quando la polizia... E' un nome meticcio, quindi, eh? Beh, sì, visto che siamo tutti meticci, per fortuna un nome meticcio. Beh, insomma, quando, così, un piccolo aneddoto, a Lodi la polizia tra gli schiaffoni in questura mi diceva, ma tu non sei rumeno, tu non sei rumeno, perché noi non sappiamo che tu non sei rumeno. Fra me dicevo, caspita, mi hanno scoperto, io credevo fosse difficile passare per il straniero. E rimanevo in silenzio e li guardavo, perché tu sei albanese, mi dicevano. Per fortuna in un lavoro anche così, molto triste, se vogliamo, perché in Italia non ci dovrebbe essere bisogno di questo. Beh, è un lavoro di questo genere, poi ci sono anche momenti di questo tipo. Ma anche su Lampedusa, questo porta delle conseguenze. Quando ero a Bruxelles il 7 luglio, ci sono gli attentati a Londra, il giornale mi trasferisce a Londra, io, ovviamente, aeroporto di Londra paralizzato, decido, penso che forse con l'eurotunnel e così ando bene, decisi di prendere il treno, che da Bruxelles, poi via Francia, arrivava direttamente in Inghilterra. Ebbene, io al valico sono stato trattenuto, fermato, perché quando scrivono dal passaporto il nome nel computer viene fuori Fabrizio Gatti, Aglias Romandradu, e ora che uscirà Bilalibra, Imelabibi, Rackeno, forse sarà addirittura peggio. Quindi non è una scelta da poco, anche perché il primo, come dire, ricevente del messaggio non è il lettore o il pubblico, ma è il direttore della propria testata o il capo redattore. E bisogna rassicurarli, ad esempio, al Corriere della Sera, per spiegare e, in qualche modo, vedere i vari aspetti del lavoro su Via Corelli, dall'inizio a quando è stato messo in cantiere, insomma, è realizzato, è passato quasi un anno, anche perché all'inizio avevo fatto un lavoro simile nel 99 in Svizzera, seguendo dei profughi kosovari, avendo saputo anche lì che i bambini venivano detenuti nelle celle di sicurezza. Sì, 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 in Svizzera ho una condanna e anche lì sono pregiudicato, lì, effettivamente, a tutti gli effetti. E quindi, purtroppo, in area Schengen sono non ancora pregiudicato, ma comunque ho la condanna per colpa di Roman Ladu, in Svizzera per Agrondreci, ma vabbè. Ma anche lì, se io da giornalista vengo a sapere che dei bambini vengono detenuti e mentre l'Europa si schiera per aiutare i profughi kosovari, la Svizzera schiera l'esercito con i cani al confine e io incontro un ragazzo completamente sfigurato da dei graffi delle ferite perché si è tirato addosso i cani di notte per difendere il nonno e la nonna, beh, mi dico, caspita, ma il confine tra Italia e Svizzera sta succedendo lo stesso di quanto succedeva nel 1939. Io da giornalista cosa devo fare? Ovviamente non nessuno deve essere kamikaze, però si possono studiare dei lavori di questo tipo. E così è avvenuto successivamente. Per cui, quando poi si parla col direttore, si tratta di spiegare ma perché ricorriamo a questo metodo? Si tratta di capire che non solo è una questione di diritto all'informazione, ma in gioco sono diritti delle persone basilari, anche questi diritti costituzionali. E la Costituzione, guardate, può sembrare rettorico, ma spero di non esserlo, è una carta che non tradisce, anche perché è la conclusione di un principio e di un percorso di pensiero notevole che l'Europa ha attraversato e che con questi episodi in qualche modo stiamo rinnegando. E stiamo vivendo in un periodo in cui in realtà, come dire, la democrazia si sta reggendo, le scelte politiche vengono rette dalla menzogna. Noi abbiamo saputo che ad esempio abbiamo esportato la pace e la democrazia, abbiamo cotto qualche migliaio di persone con le bombe al fosforo, abbiamo saputo che stavamo intervenendo per le armi di distruzione di massa, ma già dal principio, e non è lo scandalo Nigergate, ma già da prima si sospettava che in Iraq, visto che c'era un imbargo ed era il paese più controllato di armi di distruzione di massa non dovevano esserci. Da giornalista come ci poniamo con questi? E non si tratta di prendere parte, si tratta di fare riferimento ad una carta che è principale al di sopra di tutto, che ci può aiutare nel nostro percorso, perché io da giornalista, e molti di voi forse lo diventeranno e vorranno fare questo lavoro splendido, alla fine si troveranno nella condizione, ma io da che parte devo stare, ma non è per dire chi ha ragione o chi ha torto, ma se io devo andare a commettere un reato, come il fatto di dare false generalità alla polizia, o a rischiare la mia vita, beh, lo devo fare comunque per qualcosa che valga la pena e devo studiare benissimo il caso. Allora esiste una carta superiore addirittura alle Costituzioni, che è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Sull'immigrazione noi stiamo impostando in Italia e anche un'Europa una politica molto simile a quella di una realtà democratica lontana nella storia, che è la realtà greca, oppure più vicina a noi, che è quella del Sudafrica dell'Apartheid o quella della Libia. Queste sono vere e proprie democrazie, che però basano la parte, basano la loro struttura, anche economica, su una quantità di persone senza assolutamente nessun diritto. E sull'immigrazione sta avvenendo questo. E allora dall'inizio, finisco perché poi andremo avanti, il mio compito da giornalista, io ho cominciato a seguire l'immigrazione dalla cronaca nera. Facevo le notti commissariati, il cronista di nera alla cronaca di Milano del Corriere della Sera. E mi sono reso conto, ed è lì stata la fase che in qualche inchiesta mi ero finto il controllore del gas per entrare in quartieri controllati dall'andrangheta e per vedere cosa accadeva. E anche perché lo scopo era andare a vedere, ci veniva impedito, vabbè, troviamo qualche rimedio. Guardate, è un reato se ci si spaccia per postino o per poliziotto per andare a intervistare una persona. Ma quando si tratta e si è convinti che si è di fronte a un abuso, beh, allora ritengo che sia il caso e da giornalista si debba ricorrere a qualche stratagemma. E così è stato per Lampedusa. In parte hai già risposto, però in sostanza il cambio di identità è l'unica via del giornalismo investito. Cioè questa è la tua strada, è la strada che hai seguito tu nella tua professione. Ecco, ma non pensi o non temi che, come dire, malinterpretata possa, come dire, portare anche grossi problemi di carattere deontologico, per esempio? Innanzitutto non è l'unico mezzo del giornalismo investigativo. Io ho fatto inchieste, per fortuna, insomma, ho dovuto cambiare identità tre volte essenzialmente, insomma. E la dimostrazione di Siegfriedo è che, per fortuna, insomma, non ha dovuto cambiare identità se è presentato come giornalista. Ci sono degli ambiti in cui purtroppo il diritto all'informazione non è garantito ai giornalisti e l'unico modo è quello di entrare nella questione. In inglese si chiama Inside Story. Ci sono stati prestigiosi giornalisti, un europeo, Gunther Wasraf, che nell'85 ha pubblicato un libro, Ish Ali, o in italiano, era stato tradotto faccia da turco e si era finto per due anni turco e ha raccontato la realtà dei turchi in Germania. E questo è, se vogliamo, il modo immediato, migliore, per conoscere anche l'esperienza personale. Perché poi, dietro al giornalista c'è la persona e a volte anche il fatto di dare una falsa identità. Con Lampedusa io sono stato quattro ore e mezzo di notte in mare, mi hanno recuperato, richiuso nel centro. Se non fossi stato un giornalista non avrei mai avuto questa esperienza umana fortissima. E devo anche ringraziare questo lavoro. E a volte il fatto di scrivere è, come dire, il compito finale del lavoro. Perché poi prima viene, in qualche modo, l'orgoglio di essere in prima fila e vedere lo spettacolo del mondo, che poi è l'aspetto bello di questo lavoro. Non sempre è necessario, anzi, non bisogna mai cambiare identità, bisogna sempre presentarsi da giornalisti. Ma quando ci si trova di fronte a dei dilemmi, a volte la scelta è necessaria e, ripeto, deve essere una scelta pensata e motivata su basi non solo di ontologiche, prima di tutto giuridiche. Io ritengo, poi ci sarà, vedremo settimana prossima il giudice cosa dirà, il primo giudice mi ha dato torto e mi ha condannato a venti giorni di carcere. Beh, io ritengo che in quel caso, su Via Corelli, essendo entrato e poi il governo, quel centro l'ha chiuso perché disse un'ispezione governativa che non garantiva l'integrità della dignità umana, beh, comunque, con o senza condanna, ritengo di aver fatto il mio lavoro di giornalista. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. In parte ne ha accennato si Frido Ranucci, il tema, come dire, delle invidie della categoria. Ne voglio parlare con Giovanni Maria Bellu, di Repubblica, perché sulla vicenda dei 300 naufraghi di Portopalo, come dire, hai avuto onori e oneri. Eccoci, la puoi ricostruire soprattutto per i più giovani che magari non l'hanno seguita? Sì, intanto grazie. Ma, diciamo, la vicenda di Portopalo è un po' complessa, quindi cercherò di dire veramente molto, molto in pillole. Succede che nel 96, la notte di Natale, c'è un grosso naufragio, muoiono 300 immigrati e se ne salvano 29. Questi 29 vengono sbarcati in Grecia dalla nave ammiraglia, diciamo, del racket. Vengono sbarcati in Grecia, arrestati e raccontano questa storia. Quindi la storia, diciamo, è nota subito alla polizia greca e poi viene rilanciata anche dall'agenzia e quindi, diciamo, all'inizio di gennaio del 97 la storia è nota. Quindi arriva in tutte le redazioni, la Reuters dà una notizia, la prima notizia del 5 gennaio, insomma. E accade questo, accade che viene sostanzialmente ignorata la notizia dalla stampa italiana, con l'unica eccezione del manifesto, che fa una grossa campagna di stampa, però il manifesto, appunto, ha una diffusione limitata e quindi questa campagna di stampa non riesce, diciamo, a sfondare. Dopodiché succede che la notizia scompare dai giornali, un po' anche, diciamo, cancellata da un'altra notizia simile, simile anche se poi in realtà molto diversa, tant'è vero che molti ancora oggi, lo vedo che nella memoria sovrappongono i due fatti. E cioè a marzo del 97 viene lo speronamento da parte di una nave militare italiana di una barca che viene dall'Albania. È una ecatombe. E quindi, diciamo, i giornali di questo naufragio natale non ne parlano sostanzialmente più, anche se poi, invece, l'inchiesta della magistratura va avanti. E questo è, come dire, l'antefatto, diciamo, rispetto a quanto accade nel 2001, quando per un caso fortuito arriva al giornale la segnalazione che esiste un pescatore di questo paese che si chiama Portoparo di Capopassero che conosce tutta la vicenda, ha trovato anche un tesserino plastificato che secondo lui appartiene a una delle vittime. Il giornale mi incarica di questa cosa qua, vado a Portoparo e a Portoparo faccio una scoperta che secondo me in realtà è la chiave, la cosa più importante di questa inchiesta. A parte l'aspetto più spettacolare, che consiste nel fatto che poi abbiamo anche individuato il relito e filmato i cadaveri attorno al relito sott'acqua. Ma l'aspetto, diciamo, che professionalmente credo sia, mi ha dato anche più soddisfazione, riguarda questo aspetto. Cioè succede che io domando a questo pescatore, faccio una domanda chiave, che era la domanda chiave fin da allora, fin da quando avvenne la tragedia. E cioè, alla tragedia si era creduto poco, le autorità marittime italiane, maltesi, non avevano creduto sostanzialmente, nonostante le testimonianze dei superstiti che dicevano, sono morte circa 300 persone, perché non veniva trovato nemmeno un cadavere. E appariva assurdo, stranissimo, che in un tratto di mare trafficato come il canale di Sicilia, non si trovasse neanche un corpo davanti a un naufragio di queste dimensioni. E il pescatore, quando gli faccio questa domanda, mi dice, no, guarda che di cadaveri se ne trovavano tanti, ne trovavamo a decine. Solo che avevamo deciso di non fare denuncia, di non portarli a terra, perché qualche mese prima il nostro collega pescatore aveva trovato un altro cadavere, dei tanti cadaveri che ci sono nel mare mediterraneo, si stima che negli ultimi, che dalla metà degli anni 90 a oggi, i morti annegati siano stati dai 10 ai 20 mila, a seconda del sistema di calco. Questo pescatore aveva portato questo corpo a terra e tra verbali interrogatori, eccetera, è rimasto fermo col pescereccio per alcuni giorni, subendo un danno economico, quindi questi si passano la voce e dicono non lo facciamo. La cosa secondo me più strana di tutta questa vicenda, più sorprendente è che questo fatto, cioè il fatto dei cadaveri trovati in mare, era un fatto noto a tutto questo paese di 3.000 abitanti. Faceva parte delle conoscenze del paese, si sapeva, era nel memoria del paese. Per cui per riuscire ad avere la conferma di questa notizia senza scoprire il pescatore, che era la mia fonte, ho fatto, diciamo, non mi sono proprio travestito da pescatore, però mi sono travestito da un tipo di giornalista, e cioè ho fatto finta di essere un giornalista che si occupava di turismo, tempo libero, e ho cominciato a parlare con la gente di Portopalo, prendendola molto alla lontana, tutti quanti i paesi, tutti quanti posti hanno le loro piccole glorie, o le piccole invidie, le piccole rivalità, i campanili. Portopalo, per esempio, sostiene che il pomodoro Pachino, Pachino è lì vicino, non è di Pachino, ma è di Portopalo, perché per via di una storia dell'acqua, salmasta, eccetera. E quindi parlavo con queste persone per tanto tempo, ore, e alla fine buttavo lì all'improvviso, ma così, come se fosse l'ultimo dei miei pensieri, una frase come, e d'altra parte, certo, è duro il lavoro qua, per esempio i pescatori, un lavoro durissimo, si svegliano all'alba, e così via, tanto che addirittura accade quel fatto nel 96, si me l'hanno detto tanti, e ormai, insomma, si sa che furono addirittura costretti a ributtare i cadaveri che trovavano in mare, proprio perché se avessero interrotto l'attività, è come uno deve pur mantenerlo la famiglia. Insomma, avrei fatto così anch'io, li capisco. La cosa ammessa in questi termini veniva immediatamente confermata da tutti, da tutti, da tutti, compresi il sindaco, compreso il vigile urbano, il memorialista locale, e così via. Quindi ho fatto un articolo su questo, che naturalmente a Portopalo è arrivato con uno schiaffo, perché era l'ultima cosa che pensavano. Ci sono state delle polemiche durissime, hanno cercato di smentire la notizia, tutti hanno detto che non mi avevano confermato la notizia, però si erano messi male d'accordo, per cui insomma alla fine era evidente che stavano mentendo, e però c'era poi il problema di dare conferma di questo fatto, di dare una conferma definitiva. E allora cosa è successo? È successo che questo pescatore, che si chiama Salvatore Lupo, aveva trovato questo tesserino, aveva trovato questo tesserino che poi aveva accertato appartenere a una delle vittime del naufragio, perché mentre pescava con la rete a strascico, la rete a strascico si era rotta in un certo punto mare, e quando l'aveva tirata su, aveva ancora delle sacche integre, dentro una di queste sacche aveva trovato questi pantaloni spiegazzati, e aveva, dentro i pantaloni aveva trovato questo tesserino plastificato. Lui aveva assegnato il punto mare, e siccome il tesserino, come aveva accertato, apparteneva una delle vittime del naufragio, un ragazzo che si chiamava Ampalagan Ganesh, a questo punto si trattava di andare in quel punto. E allora il giornale ha creduto a questa cosa qua, e abbiamo contattato una società di ricerche oceanografiche che ha un sistema, che è quello che poi ha realizzato queste cose, che si chiama ROV, Remote Operating Vehicle, che ha una telecamera all'interno, e abbiamo alla fine trovato la cosa. È stato molto importante in questa operazione il pescatore, e cioè Salvatore Lupo. Perché? Perché lui non solo aveva l'esatto punto mare, nel senso che si era parlato genericamente dopo il naufragio del fatto che il naufragio era avvenuto nel canale di Sicilia. Questa notizia l'ha per esempio riportata in manifesto. Ma il canale di Sicilia, come tutti sanno, a parte un collaboratore di il problema dell'informazione, che forse era quello a cui faceva riferimento, è un pezzo di mare vastissimo. Per cui il punto, il problema vero, era conoscere esattamente quel punto, e quel punto lo conosceva questo pescatore, Salvatore Lupo. Per cui, grazie alle sue indicazioni e col suo peschereccio che ha messo a disposizione gratuitamente, siamo andati in quel punto, è stato colato in Rov e abbiamo filmato. Queste sono immagini, come dire, sporche, nel senso che sono ore e ore di immagine. A un certo punto, poi, alla fine di questa cosa qua, si vede il relitto con i cadaveri attorno. Questo è quello che noi abbiamo visto per i due giorni che eravamo sul peschereccio con la faccia incollata al monitor e con questo rumore terrificante di un generatore, di quelli che si usano per le feste di paese, per fare le luminarie, perché la barca di Salvo Lupo non aveva corrente sufficiente, quindi avevamo messo sopra questo generatore. Finisco dicendo che Salvo Lupo, tanto è stato importante il suo ruolo, tanto è stato determinante quello che ha fatto, dopo che c'è stata l'inchiesta, ha avuto delle minacce. Dopo che lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, è uscito un libro che ho scritto dove racconto queste cose, è stato minacciato fisicamente e ha dovuto abbandonare il paese. In tutto questo, effettivamente, mi è distraciuto che, io direi, faccio, lo possiamo dire, no? I colleghi del manifesto, che hanno avuto amplissimi riconoscimenti del fatto che loro hanno fatto la campagna di stampa nel 96, addirittura il giorno in cui noi abbiamo fatto lo scoop, nel dare la notizia, abbiamo pubblicato una delle prime pagine del manifesto all'interno del mio servizio, per dire, guardate, erano stati loro. Poi, non so davvero, infatti non ho ben capito per quale meccanismo poi ci sia stata questa cosa, ma credo che sia stata superata anche perché penso che abbiamo riconosciuto i loro errori, insomma. Ecco, e comunque, che risposta ti sei dato? Perché, voglio dire, c'è stata questa omertà fondamentalmente da parte di un'intera comunità? Perché se il fatto era risaputo, perché le forze dell'ordine, la magistratura, che so, i carabinieri non avevano indagato, mi ricordo l'aver letto anche di un teschio attaccato davanti a un bar, no? Sì, sì, sì. Perché è una cosa anche un po' raccapricciante. Che meccanismo è scattato? Al di là, come dire, della paura di, in qualche modo, condizionare un'attività economica come la pesca, che sicuramente l'attività principale dei pescatori di Portopalo, insomma. Cos'altro c'è secondo te? Ecco, nel rispondere vorrei introdurre un argomento di carattere generale. Cioè, quando poi sono andato a Portopalo, diciamo così, a presentare il libro nel dicembre scorso, e me ne sono andato via con la scorta dei vigili urbani, durante questo dibattito avevo detto questo, avevo detto che Portopalo in realtà non poteva ritenersi diffamata da questo fatto, a parte che il fatto era vero, ma neanche da come l'avevo trattato, perché avevo sempre detto chiaramente, quando ho scritto i pezzi, in modo molto articolato nel libro che ho fatto, che Portopalo è la metafora dell'Italia. Nel senso che il fatto che una intera comunità possa metabolizzare una vicenda così orrenda, perdendo completamente, dimenticando il suo codice etico, anzi più codice etico, etico, il codice della marineria, il, come dire, il normale pietas generale, il fatto che c'è addirittura un parroco a Portopalo che giustifica questi comportamenti, per dire. Ecco, questo richiama il problema che ha oggi, secondo me, il giornalismo in Italia. E cioè, io non credo che l'Italia abbia un problema, abbia meno giornalismo di inchiesta che altrove. Abbiamo oggi, qua, stasera, alla mia destra due dimostrazioni viventi e recentissime del fatto che il giornalismo italiano fa, produce, delle grossissime inchieste che hanno risonanza mondiale. Questo è un fatto. Quindi, io sono un po' stanco di sentire, dire, ma no, ho sentito dire anche Fabrizio Gatti, ed è stata la sua fortuna, diciamo, questa cattiva fama che noi abbiamo, no? Poi magari lo può raccontare. Io leggevo nel pezzo che a un certo punto, quando se lo ritrovano là, c'è una conversazione, pare, tra due poliziotti, no? Tra due carabinieri. E praticamente si dicono, ma non sarà un giornalista e l'altro diceva, ma no, queste cose gli italiani non le fanno, no? E così. Fabrizio Gatti riesce a superare questo brutto momento. Quindi la cattiva fama, in quel caso, diciamo, qualche volta può servire. Io credo che invece sia una fame ineritata. Nel senso che io credo che in Italia ci sia non un problema di giornalismo di inchiesta, ma un problema di opinione pubblica. cioè, credo che... e tra l'altro, anche questi casi recenti, anche queste inchieste recenti lo dimostrano. Anche se, diciamo, lo si vede un po' meno di altri casi, per un solo fatto. Perché sono stati degli scoop così fenomenali, che era difficilissimo, come dire, fare l'operazione che è stata fatta in altre cose meno evidenti, no? E faccio un esempio, e poi concludo. Noi abbiamo, è un esempio che faccio sempre, anche lo faccio, come dire, anche per ricordare un grandissimo giornalista che era Pepino Fiori. Pepino Fiori, a un certo punto, scrive un libro che è la biografia di Berlusconi. Scrive delle cose originali, scrive delle cose sulle quali erano andati ancora prima di lui due giornalisti che avevano scritto l'autobiografia del signor TV per la caos, Ruggeri e Guarino. E a un certo punto, in entrambi i libri, vedete, raccontate in modo diverso, una storia che... la storia è questa. Che è la storia, insomma, di come Berlusconi acquisisce in quel modo indegno la villa di Arcore, raggirando sostanzialmente attraverso il patrocinio di Previti, che era l'avvocato della contessina Casati Stampa, praticamente compra a un prezzo di risorio la villa di Arcore, raggirando questa ragazza che era minorelle e per giunta orfana. Un fatto ignobile, proprio. Allora, in qualunque paese un personaggio di questa fatta non solo non avrebbe fatto politica, probabilmente ognuno di noi avrebbe evitato di farla entrare a casa propria, no? Da noi questo è diventato Presidente del Consiglio. E questi fatti qua sono stati scritti, documentati, senza che ci sia stata mai alcuna reazione, mai alcuna querela, non soltanto sui giornali, ma addirittura nei libri. Allora, voglio dire, quando si dice che il giornalismo di inchiesta americano è straordinario perché ci fu l'inchiesta sul caso Watergate, grande inchiesta sostenuta da un fenomenale colpo di fortuna che capita raramente, che si chiama gola profonda, che, diciamo, riduce il merito dei due colleghi americani, avere la gola profonda, no? È molto più bella e complicata secondo me l'inchiesta di Andrea Purgatori su Ustica rispetto a quella sul caso Watergate, no? Ma perché la ricordiamo? Perché Nixon si è dimesso. Se Nixon avesse avuto un collante simile a quello che usa il nostro Presidente della Banca d'Italia per attaccarsi alla sedia e non si fosse dimesso, noi non la ricorderemo l'inchiesta sul caso Watergate. Se in questo Paese ci fosse un senso etico e si ritenesse, è un'etica pubblica, diciamo, è un'opinione pubblica avvertita e diffusa, e si ritenesse che un personaggio che fa un atto ignobile come quello che ha fatto Berlusconi nei confronti dell'orfanella Casati Stampa, probabilmente non avrebbe cominciato la carriera politica. Si potrebbe continuare a lungo facendo degli esempi, che sono esempi che dicono che questa probabilmente è una parte del problema. Concludo dicendo che sono d'accordo con quello che diceva Fabrizio Gatti, cioè i giornalisti devono avere come legge di riferimento una legge fondamentale. Certo la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ma direi per quanto ci riguarda semplicemente la Costituzione di questo Paese. Io credo che oggi per fare il giornalismo d'inchiesta sia certo necessario fare le inchieste, fare gli scoop, raccogliere informazioni, però non ci si può allontanare della responsabilità del giornalista cittadino, e cioè bisogna contribuire come cittadini a ricostituire le ragioni dell'indignazione, e cioè in definitiva prendere partito, non aver paura di macchiarsi, sporcarsi le mani, difendere la democrazia di questo Paese. Grazie. Giovanni Maria Bellu fa venire in mente la vicenda della Ministra della Giustizia di Clinton che si era dimessa perché non pagava i contributi alla Colf. È evidente che si è dimessa perché esiste un'opinione pubblica che ha un forte senso etico delle istituzioni. Il tema, come si vuol dire, giunge a fagiolo con l'ultimo dei nostri ospiti, che è Alberto Nerattini, che è giovanissimo, come vi ho detto, ha 32 anni, ma non per questo, come dire, è un neofita, nel senso che già... No, figlio del Watergate. Figlio del Watergate. Figlio del Watergate. Mi sembra, come dire, una buona definizione. Lui si è dimesso nel 74 e... Lui sta cercando di dimettere un Presidente di una Regione e vediamo se, come dice Bellu, se il giornalismo d'inchiesta si vede dagli effetti che produce, più o meno è questa la tesi, ecco Nerattini per l'appunto, come dire, ha un obiettivo particolare sul Presidente, si può dire, il Presidente della Regione Cuffaro, Presidente della Regione Sicilia, al quale è dedicato La Mafia Bianca, un libro che è un caso, ormai, perché ha raggiunto le 65.000 copie, scritto insieme a Stefano e Maria Bianchi e che ha la particolarità di essere insieme libro e video. Lo dico perché, appunto, qui poi molti sono anche, come dire, studenti di scienze della comunicazione e quindi, come dire, c'è uno spazio anche per i freelance, mi verrebbe da dire, o no? La butto qui. C'è, c'è, non è che me lo sono andato a cercare, insomma, io stavo a Sciuchà, anche Stefano e Maria Bianchi stavano a Sciuchà. Ecco, va detto che comunque il testimonial di questo prodotto è comunque Santoro e quindi, come dire, è un buon marchio, no? Sì, 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 sì. Che non se la passa bene dal punto di vista professionale. No, ma io sono d'accordo con Bellu quando parla di etica e di opinioni pubblica. Noi qui raccontiamo una storia, non abbiamo un caso di inside story come nel caso di Fabrizio. Abbiamo un altro caso, però, che è quello magari della solitudine del giornalista. Queste scene proprio raccontano Totò Cuffaro, presidente della regione Sicilia, che va in uno dei processi che lo riguardano, qui va come testimone, a testimoniare come nel processo che riguarda una delle talpe, le cosiddette talpe, e in questi processi non ci sono giornalisti. Cioè, noi eravamo lì con le telecamere, ci sono... Quel giorno c'è Cuffaro, c'è Sky, c'è la telecamera di Sky, che non ha mandato in onda praticamente nulla. Quando vai a seguire il processo, non... Sprovi una grandissima solitudine, quindi questo è l'altro aspetto. Lui parla della questione dell'opinione pubblica, della questione etica, della questione della morale e cade veramente a fagiolo perché qui siamo di fronte a una storia che non è di questi giorni come, ahimè, ci sembra dai giornali, perché Cuffaro da alcune settimane, quasi tutti i giorni, è sui giornali. Qui stiamo parlando di una vicenda che, per quanto riguarda il presidente della regione, nasce nel giugno del 2003, quindi stiamo parlando di due anni e mezzo fa. Ed è una vicenda incredibile, secondo me è una storia schifosa, vincente, e molto inquietante. Stiamo parlando di mafia e politica, un tema cruciale per questo paese e noi non abbiamo fatto altro che investire su questa storia, di andare giù in Sicilia e restare per almeno cinque settimane di fila con le telecamere accese, ovviamente muovendoci sul filo dell'inchiesta giudiziaria, delle inchieste giudiziarie e poi facendo la nostra inchiesta, cioè andando a cercare i personaggi di questa zona grigia che sono magari direttori generali di ospedali. Fabrizio prima parlava dell'articolo 21, io trovo fondamentale fare riferimento alla nostra carta costituzionale, anche da giornalista, io trovo che nella nostra carta costituzionale uno potrebbe prendere quasi un articolo a caso e prenderlo come spunto per un'inchiesta, perché qui si tratta dell'articolo 32, cioè stiamo parlando della prima parte, quella che ancora non hanno devastato, della prima parte della Costituzione, che è il diritto alla salute. Quindi noi abbiamo individuato, come hanno fatto del resto anche i magistrati, prima di noi, nella sanità il punto d'incontro devastante tra potere politico e potere mafioso. In un passaggio del docufilm si sente Angelo Sino, che tranquillamente ha udito pochi mesi fa nel processo a Michele Aiello, dove è imputato anche Cuffaro per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ricorda del suo primo incontro con Totò Cuffaro. Ed era il 91, all'inizio del 91, dice proprio che gli arrivò questo personaggio ridanciano, baci a bracci, mi diede subito del tu, e mi chiese, io devo vincere l'elezione, devo arrivare primo degli eletti, mi deve aiutare, mi deve aiutare, mi deve aiutare. Una cosa sorprendente, prima ricordavi il ministro di Clinton che si è dimesso per non aver pagato la Colf, o le dimissioni di Nixon, lui non ha mai negato di essere andato da Sino a chiedere i voti. Pochi mesi dopo quell'incontro, siamo nel 91, Cuffaro viene eletto, ed è l'inizio della sua sorprendente carriera politica, viene eletto all'Assemblea regionale. Quando gli fanno notare questa cosa, gli dicono, ma è vero, io andai da lui, ma io pensavo, non sapevo chi fosse, non sapevo che fosse un mafioso, addirittura il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, diciamo uno dei più stretti collaboratori di Teotorino, di quello che ha praticamente messo in pratica la fase più violenta, l'epoca stragista di Cosa Nostra. pensavo fosse solo un imprenditore, bizzarro comunque che uno vada da un imprenditore a chiedere tutto quello, una richiesta così chiara, così forte, pensare che questo imprenditore possa fargli vincere le elezioni. Però Sino, pochissimi mesi dopo, l'8 luglio, se non ricordo male, del 1991, lo stesso anno, è arrestato. L'accusa è pesantissima, associazione mafiosa. Allora già lì un deputato regionale dovrebbe dire cavolo, io pensavo fosse un imprenditore, invece questo lo accusano di essere un grande mafioso. Nel 1994 arriva la prima condanna, nove anni per associazione mafiosa, allora in qualsiasi paese, ed è qui che sono d'accordo, in qualsiasi paese del mondo, un politico direbbe scusatemi, ho sbagliato, mi dimetto, io sono andato a chiedere i voti, io sono diventato un deputato, grazie ai voti, di un pezzo da 90 della mafia, della mafia che ha ucciso Falcone, della mafia che ha ucciso Borsellino, della mafia che ha messo le bombe a Firenze, Milano, Roma, scusatemi, mi ritiro ad altra vita. Questo ovviamente non è successo, stiamo parlando di queste cose nel 2005. Io con Stefano faccio questo lavoro, Cuffaro ovviamente ci sta facendo grande pubblicità, ci sta attaccando in maniera violentissima, scomposta e scompigliata. Vi ha correlato? Non ha correlato Cuffaro? No, Cuffaro io trovo, non può correlarci, perché questo è un lavoro, è stato visto, rivisto, studiato, fatto insomma come succede in queste cose. Assolutamente, dietro c'è un grande editore come la Rizzoli che ha il suo ufficio legale e ti puoi figurare, insomma ti puoi immaginare quanti passaggi l'ufficio legale ha fatto. Ma lui oggi non lo fa, e probabilmente secondo me la cosa ancora più sorprendente è che non lo fa un casino, stiamo sempre a parlare dell'Udc, di questo piccolo partito così fondamentale per le sorti di questo paese. fa Cuffaro presidente del congresso, lo nomina proprio, lo sottolinea come importante avere Cuffaro accusato di legami con la mafia, presidente del congresso, una settimana dopo lo fanno vice segretario nazionale del partito. Adesso cesa il nuovo segretario è lì perché l'ha voluto Cuffaro. Un partito che senza la Sicilia non esisterebbe, non prende una posizione sulla questione morale. Ed è giusto dirlo perché la questione morale è una cosa che appartiene alla politica, non bisogna lasciarla ai magistrati. Avete provato a intervistarli, follini, casini su questa vicenda? No, questo abbiamo cercato, per quanto riguarda noi abbiamo cercato e abbiamo ottenuto tanti sì di intervistare Cuffaro. E non abbiamo mai... Ma quando lui, scusami, invece Silfrido ricordava quello che ha fatto Al Jazeera, questo anche sul nostro lavoro si poteva fare tranquillamente una cosa simile. Noi abbiamo avuto l'occasione, nel stesso canale dove lavora Silfrido, di confrontarci con il presidente Totò Cuffaro, ma è stata un'esperienza imbarazzante dal punto di vista del giornalismo. Ecco, prima Bellu sottolineava il ruolo dell'opinione pubblica. Voi questo filmato e il libro l'avete ovviamente portato anche in Sicilia. Che tipo di reazione avete trovato? Infatti, mi piace la domanda perché io sono assolutamente d'accordo con Bellu, ma al tempo stesso mi piace, forse perché sono figlio del Watergate, essere anche un po' in disaccordo, perché secondo me non è solo una questione di opinioni pubbliche, è anche una questione di editori e di giornalisti. Perché, per esempio, sul lavoro di Silfrido, perché, l'ha ricordato lui, la BBC viene chiamata al Pentagono e non la Rai. Io vivevo negli Stati Uniti quando avevo 17 anni, mi ricordavo, vivevo a St. Louis, nel buco del Midwest, e c'era solo questo St. Louis Dispatch, questo giornale. Mi ricordo, intere pagine ogni tanto dedicate ai premi, premietti, premiucci, vinti dai loro giornalisti in giro con grande orgoglio, dava prestigio alla testata. Allora, un lavoro come quello di Silfrido, e parlo del suo, vorrei parlare del mio, ma il mio non può andare in televisione, non c'è andato, quindi, insomma, probabilmente c'è andato. Ma è scomparsa la parola immigrazione, come è scomparsa la parola guerra, non prendiamoci in giro. E perché la Rai, quando esce un lavoro del genere, non lo porta in prima serata, nei telegiornali? Ci sono 1100 televisioni del mondo che chiedono i 24 minuti di Silfrido Ranucci, ci sono interi giornali che parlano di questo, e noi siamo in un paese dove te lo mandano in un dalle 7 di mattina, e il Tg1, invece di dire se domani piove o nevica, che faccia due servizi, tre servizi, che continui l'inchiesta, che faccia una campagna, un giornale, prende, su una questione come la nostra, perché un giornale non fa... Il Tg1 ha dato la replica del Pentagono. Esatto, senza, e non si capiva neanche a cosa, probabilmente, per un telespettatore medio del Tg1, perché la replica senza aver spiegato l'antefatto. Ma su questo, ovviamente, si è in Sicilia, si è successo il casino, si è indignata la gente, abbiamo... Io domattina ho un aereo e torno per un altro giro della Sicilia, ci dicono che quello che è successo con Rita Borsellino, che è passata in due o tre presentazioni della mafia bianca a... cioè, qui stiamo parlando di siciliani che vivono queste cose tutti i giorni e non sapevano di queste cose. Qui mandiamo in onda intercettazione, mandiamo in onda qualche udienza, mandiamo in onda questi personaggi che sono i direttori di ospedali dove si muore per una frattura al femore a 22 anni, che serenamente si ricordano di essere stati a casa dei boss mafiosi e di far parte di intercettazioni ambientali e affrontano la questione con grande spocchie, con un volgarissimo senso di impunità. Questi siciliani, queste persone le conoscono, le hanno viste nelle televisioni, negli incontri privati eppure queste cose messe in fila non le conoscevano. Allora l'opinione pubblica lì si incazza, si indigna. Quindi un po' tutte e due le cose. Secondo me un giornale, magari uno dei pochi giornali che ha fatto delle cose, magari su... di un certo tipo come l'unità potrebbe benissimo, a volte lo fanno, a volte no, fare delle campagne sulla questione del fosforo bianco, fare delle campagne sulla questione morale nella politica perché non bisogna lasciarla né cadere né in mano ai magistrati perché qua se nessuno si dimette bisognerebbe invece prendere una posizione chiara, precisa, pulita, senza essere... Io credo che questo sia proprio il segno di quanto ce la passiamo male in Italia. Io vorrei tornare un attimo sulla prima domanda e poi dopo chiudiamo questo primo giro. Proprio su questa esperienza, in fondo questo è un prodotto, è un filmato nato già per l'OM video in sostanza. Sì, è la prima volta praticamente che ci manda in DVD, in libreria, un inedito, un qualcosa di inedito. Prima Cavalli parlava del libro, qualcuno dice che i giornalisti con le inchieste l'hanno anche scritto, anche in qualche saggio, non è capitato di leggere quanto il libro, secondo alcuni, abbia ravvivato le inchieste, i giornalisti abbiano ravvivato il libro al tempo stesso perché le inchieste vanno sui libri. Secondo me le inchieste devono andare sui giornali, come fa bello, tu la fai per il giornale e poi ci fai anche un libro. Questo è un lavoro che nasce e va direttamente in un cofanetto, che è questo qui dove c'è un DVD e c'è un libro. E' un'esperienza nuova, dicono anche che il giornalismo sta cercandosi nuovi spazi d'azione. No, è interessante perché se c'è un'opinione pubblica c'è anche un mercato per questi prodotti che non riescono a passare attraverso i grossi network. Io però credo che a me sarebbe piaciuto vedere la maffia bianca in televisione. In televisione, vabbè, è chiaro. No, lo credo perché... Lo teniamo come auspicio a tutti quanti. E' anche questo un modo per poi direi all'opinione pubblica, non c'è, perché se questa cosa dava in onda, magari ai tempi di Ciuscià davanti a 6 milioni di telespettatori, non dico che Cuffaro aveva più difficoltà a guardarsi in faccia o ad affrontare la sua giornata politica comune, ma insomma, questi stiamo parlando di 60 mila copie, un risultato eccellente, ma qui tutti si intendono di mercato editoriale più di me, 60 mila copie non sono 6 milioni, 5 milioni, 3 milioni di telespettatori, ed è proprio quello che temeva Cuffaro. No, confidiamo, come dire, nelle copie pirata, quindi. Mettiamolo su internet, ma c'è già, lo cercato c'è già su internet. Va bene, grazie. Grazie anche ad Alberto Nerassini. Io chiederei intanto a Siffrido, come dire, una sua veloce replica sulle cose che ha sentito. Innanzitutto fa piacere perché vedere, ci sono colleghi che alla continua ricerca della verità hanno compiuto delle operazioni di alto giornalismo e l'hanno fatto secondo me con criteri giustissimi. Fabrizio ha fatto oltretutto anche un recupero della memoria perché si è calato nei panni dell'immigrante italiana per ripercorrere e raccontare nel migliore dei modi la vicenda degli immigrati. E il recupero della memoria secondo me è una condizione essenziale per capire e contestualizzare le notizie. Tanto è vero che prima Alberto citava come il Tigiuno aveva dato la notizia del fosforo dando solamente la smentita del pentagono. Questo non permette ovviamente alla gente di capire che cosa è successo sul fosforo bianco. Il recupero della memoria è essenziale secondo me. Io vi voglio citare un brano. Non entreremo in Iraq come conquistatori ma come liberatori. L'Iraq sarà nelle vostre mani. Noi abbattiamo un regime sanguinario per farvi vivere in sicurezza. Secondo voi chi l'ha detta questa frase? Penso che voi... Un sospetto. Bush? Ah, no. L'ha detta il generale Mond, capo delle forze britanniche, quando è entrato in Iraq nel 1917. Ecco, se qualcuno avesse recuperato nella memoria già una citazione di questo tipo magari qualche sospetto su quello che ci veniva detto all'inizio di questa guerra ci sarebbe anche venuto. Ecco perché magari recuperare e lavorare sulla memoria è fondamentale. Dopodiché dispiace che poi racconti di questo tipo come quello anche di Alberto vengano fatti come... a livello di Carbonario. Cioè se avessero fatto una prima serata sulla mafia bianca, sul fosforo o su altre cose ci avrebbero evitato di girare l'Italia anche a portare in giro questo documento con meno fatica. Quello che sta... Io ho visto il documentario di Alberto, è splendido perché è uno dei pochi racconti sulla mafia che fa vedere anche come la mafia condiziona la vita della gente. La condizione è in maniera tangibile perché lì si tratta di una gestione di ospedali pubblico dell'ospedale pubblico e cosa significa per la gente essere nelle mani della mafia. Ecco io penso che il giornalismo oggi... Mi piace raccontare una poesia indiana bellissima che dice che le farfalle si posano indifferentemente sul volto dei vincitori addormentati e sul corpo dei vinti uccisi. Ecco io penso che il giornalismo debba indugiare di più sui morti, sui vinti perché dal punto di vista morale hanno bisogno di raccontare di più. Grazie. Domande? Domande a Siegfriedo soprattutto perché ci deve lasciare. Siegfriedo avendo avuto tanto successo con quest'ultima inchiesta di Fosforo Bianco c'entra anche poco però la mia domanda era quando vediamo che il lavoro di un giornalista che si impegna e rischia anche tanto per riuscire a tirare fuori un'inchiesta e far conoscere la verità. Quando vediamo che questo sforzo viene poco premiato dalle televisioni, dai redattori che non danno molto spazio volevo sapere un po' qual era la reazione cos'è soprattutto che spinge poi a continuare a ricercare continuare a ficcare il naso anche quando magari non c'è il riscontro che si aspettava quando si pensa di aver trovato qualcosa di grande che dovrebbe far scalpore, che dovrebbe indignare quando invece questo non avviene cos'è che può portare un giornalista ad andare avanti a continuare il suo lavoro di ficca naso diciamo. Grazie. L'amore per il giornalismo d'inchiesta sia nel DNA di una persona o di un giornalista io adesso leggendo i giornali e girando un po' per conferenze vedo che poi le persone sono sempre le stesse Fabrizio c'ha precedenti penali per questo quindi Alberto pure ne ha vissute delle belle io penso che sia nel DNA di un giornalista io non saprei fare un altro tipo di giornalismo con dei limiti ovviamente è anche un limite non poter fare un altro tipo di giornalismo ma penso che il contributo dell'inchiesta soprattutto oggi che c'è la notizia sfornata continuamente lo dico da giornalista di un canale on news è fondamentale perché oggi la velocità con cui vengono date le notizie non ti permette di verificarle non ti permette di capirle non ti permette di comprenderle e secondo me se non avviene tutto questo a monte non si riesce neanche a far capire alla gente che cosa avviene ritornando all'esempio della guerra noi stessi abbiamo diffuso la notizia della guerra che cominciava perché bisognava andare a cercare le armi di distruzione di massa e lo ricordate tutti noi come canale on news abbiamo contribuito in maniera importante nella diffusione di questa notizia oggi che si scopre che non è vero a chi importa più? c'è qualcuno che si è indignato per questo motivo ormai le coscienze erano state in qualche modo plasmate ecco dico che invece il giornalismo d'inchiesta riesce a farci fermare un attimo e a far capire meglio la realtà grazie io volevo chiedere a chi vuole a Gatti se crede qui siamo come dire in presenza dei testimoni di giornalismo d'inchieste di carattere sociale ma penso per esempio al giornalismo economico dove non ci sono inchieste vere se ci fossero state noi avremmo come dire salvato migliaia di risparmiatori e mi sembra cosa allo stesso modo lodevole dai famosi bond Cirio, Parmalat, Argentini o dalle bolle speculative dei titoli tecnologici ecco non è che abbiamo come dire un giornalismo investigativo a due velocità rispetto a questi settori no assolutamente no perché se ci riferiamo all'aspetto economico al governatore della Banca d'Italia e così via non so mi viene in mente Vittorio Malagutti che è un grandissimo inchiestista di economia che lavora all'Espresso ha scritto pagine e pagine sulla questione Banca Popolare di Lodi sulla questione Cirio e praticamente addirittura in qualche caso guidando l'inchiesta perché poi i magistrati acquisivano i documenti che lui trovava in giro per l'Europa beh questo non è servito assolutamente nulla perché forse è d'aiuto considerare quello che sta avvenendo intorno a noi nel mondo occidentale cioè ci metto Italia, Europa e Stati Uniti come una sorta di regime mediatico forse questo ci aiuta per cui non si tratta di dire destro-sinistra, centro-destra, centro-sinistra vediamo il caso governatore della Banca d'Italia sull'Espresso ma anche su Repubblica anche sul Corriere addirittura sono uscite informazioni anche compromettenti a un certo punto comincia il giornale a pubblicare delle intercettazioni atti pubblici depositati e poi c'è Repubblica che pubblica intercettazioni che dimostrano come Fiorani amministratore delegato della Popolare di Lodi fosse in combutta con il controllore del sistema che doveva essere il governatore della Banca d'Italia pochi giorni dopo il Corriere della Sera spiega come le teste di legno usate da Fiorani sempre attraverso atti pubblicamente depositati perché l'Italia ha acquisito perché facciamo parte per fortuna alla nostra salvezza dell'Unione Europea l'articolo sulla legge di market abuse abuso di mercato che permette indagini con intercettazioni e così via atti documentati che spiegano come le teste di legno usate da Fiorani dal governatore della Banca d'Italia per la scalata Anton Veneta fossero usate addirittura dal centro-sinistra per un altro tipo di scalata bene, la risposta di tutto questo è stato il Presidente del Consiglio che dal luogo di vacanza dove si trovava aveva promesso di firmare di suo pugno una legge che prevedeva l'arresto dei giornalisti che pubblicavano notizie, intercettazioni e così via atti pubblici nessuno tra l'altro aveva commesso un reato e tra l'altro il giornalista il compito che ha è verificare che quello che ha è vero poi che siano atti coperti dal segreto no, io ritengo che un giornalista dal momento che li ha li deve pubblicare altrimenti se cominciamo noi a autocensurarsi bene, per fortuna questa legge la proposta non prevede l'arresto dei giornalisti ma prevede forse qualcosa di peggio magari fosse stato l'arresto l'Italia avrebbe dovuto presentarsi al mondo intero con dei giornalisti in carcere invece no, prevede delle penne pecuniarle per le quali qualunque siamo a fior di milioni di euro per le quali qualunque editore ovviamente prima di pubblicare degli atti del genere si guarderà due volte prima di pubblicarli e la dichiarazione contro la legge contro la Costituzione contro l'etica comune contro addirittura il codice penale perché era un caso di favoreggiamento in senso lato del Presidente del Consiglio non è stata criticata dall'opposizione tranne qualche eccezione e ho sentito in televisione fior di esponenti dell'opposizione dire beh è giusto le intercettazioni non vanno pubblicate io consiglierei un libro scritto da due colleghi che si chiama Regime che quando vediamo noi messi insieme degli episodi hanno cacciato Enzo Biagi ora Enzo Biagi non è un giornalista del manifesto è uno che ha una storia personale che non mi sembra di autonomia operaia bene Enzo Biagi è passato per comunista ed è stata fatta una dichiarazione dalla Bulgaria che i giornalisti bulgari ancora si chiedono che cosa sia successo da là per cacciare Enzo Biagi è stato cacciato Santoro sono stati cacciati altri se noi vediamo questi singoli episodi messi tutti insieme ci rendiamo conto della sistematicità forse il fatto della mancanza di una memoria ci porta a non vedere questo questo è molto grave perché quando dorme la memoria succedono le cose peggiori ed è gravissimo la cosa che più mi preoccupa io ho una grande stima nell'opinione pubblica britannica perché da lì forse è nata la democrazia europea e vedere come anche lì si stia in qualche modo addormentando la coscienza pubblica è un aspetto molto pericoloso però lì se un giornale scrive alla fine comunque il governo deve rispondere io ho raccontato un episodio su Lampedusa nel quale si racconta di persone prese a schiaffi ci hanno obbligato a sederci nell'urina hanno mostrato dei video pornografici su un telefonino ai minorenni ai musulmani un ragazzo che non voleva guardare è stato costretto uno mi ha in un'intervista mi ha detto ma se adesso i musulmani ci faranno un attentato sarà colpa anche di questo reportage ma gli ho detto ma al massimo se speriamo di no dovesse accadere per questo al massimo sarà colpa di quel carabiniere che ha mostrato quei video bene sono state fatte delle interrogazioni in Parlamento il ministro dell'interno ha affidato l'inchiesta al prefetto di Agrigento che è il gestore di Lampedusa quindi in sostanza poveretto dovuto indagare su se stesso e ovviamente la fine dell'inchiesta è finito che tutto andava bene e il ministro dell'interno ha risposto dal ministro dell'interno beh sì situazione difficile ma a noi non risulta tutto questo ora di solito in un paese che funziona c'è un'opposizione che risponde bene prendiamo atto delle risposte non pretendo che uno si debba buttare in mare che qualche deputato debba buttarsi in mare per vedere quello che accade prendiamo atto delle risposte e rimarremo a faricani da guardia invece la risposta del capogruppo dei DS che è lo maggior partito d'opposizione è violante alla Camera è stata condivido la risposta del ministro e sono soddisfatto della risposta del ministro e condivido appieno le sue considerazioni sull'immigrazione ora vediamo che quando non c'è contraddittorio perché magari sono state divise alla base delle scalate bancarie e così via viene messa in grave rischio la democrazia le inchieste economiche sono state fatte purtroppo forse siamo stati disattenti come i cittadini perché qualcuno si è fatto non credendo ai giornali si è fatto consigliare dai suoi fidati consulenti di banca o direttori di banca perfino me avevano proposto non risparmi ma avevano proposto di investire sul Nasdaq prima che crollasse due settimane prima beh come funziona una democrazia con delle leggi ferree da noi abbiamo depenalizzato il falso in bilancio abbiamo concesso la sanatoria sul rientro dei capitali all'estero e poi ci come dire ci dobbiamo meravigliare se ci sono i furbetti del quartierino che fanno la scalata alle banche in compenso abbiamo fatto delle campagne per criminalizzare delle persone che vengono in Italia a cercare di migliorare le loro condizioni di lavoro e addirittura anche laddove sono persone che non hanno mai commesso reati viene impedito loro il diritto di voto per quanto riguarda gli immigrati legali addirittura il diritto a mettersi in regola non so Bologna Milano e Roma impiegano 14-15 mesi a rinnovare i permessi di soggiorno queste cose noi le diciamo però spesso cadono del vuoto ora il compito di un giornalista secondo me però questa è la mia opinione personale non deve essere bellitario non è quello di cambiare il mondo altrimenti sarebbe pericoloso è quello di raccontare io mi limito a questo se poi il mio racconto serve a qualcosa sono ancora più contento se non dovesse servire sarò sempre contento di tentare di scoprire e raccontare dobbiamo fare i conti con la realtà in cui siamo purtroppo ma è così grazie 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 io intanto rinnovo sempre l'invito se qualcuno ha altre ecco prego ho una domanda dal pubblico prego io volevo chiedere una cosa in merito diciamo alla precarietà del lavoro del giornalista e volevo sapere se un vostro parere se appunto la precarietà del lavoro possa influenzare negativamente l'attività di inchiesta o meno perché diciamo logicamente si direbbe di sì nel senso che il fatto di non avere comunque uno stipendio delle garanzie sul lavoro porti sicuramente a una minore libertà e una minore libertà d'azione di inchiesta però dall'altra è anche vero che in alcuni momenti in cui il giornalismo è sembrato più attaccato dalla situazione politica generale della società sono uscite delle inchieste sicuramente interessanti come quelle che abbiamo qui di fronte ma anche comunque il caso di Report che è nato comunque in questi anni quindi volevo un vostro parere su questa cosa chiarissimo io raccoglierei anche l'altra domanda che ho visto una mano alzata qui alla mia sinistra sì io avevo due curiosità una per Ranucci per quanto riguarda tutte le fotografie che abbiamo visto nel documentario che comunque come tu hai detto sono pochissime rispetto a quelle che avete voi ecco in questo caso c'è una deroga diciamo deontologica sul fatto che si tratta di un documentario girato in zone di guerra sul fatto che servono a testimoniare delle violazioni sui diritti umani o comunque si rischia non so se le avete avuto dei richiami dall'ordine per aver mostrato scene di particolare ecco e feratezza insomma e una cosa una curiosità se posso anche sul documentario sulla mafia bianca io quando l'ho visto sono rimasto impressionato da alcuni materiali che non so se sono pubblici o non penso però cioè gli audio proprio delle intercettazioni o il video finale di Cuffaro appena eletto che incontra i due loschi personaggi davanti all'albergo ecco se magari ci potevi dire qualcosa sui rapporti tra i giornalisti le fonti cioè come caspita avete fatto ad avere questo come caspita bene per quanto riguarda il lavoro precario sicuramente l'essere precari in Rai almeno rispondo per Rai sicuramente è condizionante e poi se si è precari di Santoro è ancora peggio perché si fa la fine che ha fatto Michele e Alberto poi ne raccontrano meglio e il fatto il fatto che ecco lei ha citato alcune inchieste le hanno fatte la maggior parte le ha fatte in televisione e in servizio pubblico secondo me non è un caso perché in genere l'informazione sulle emittenti appartiene circa al 6% del palinsesto generale ed è spesso difficile anche distinguerla da quello che è l'intrattenimento oggi i telegiornali durano in media 7-8 minuti due o tre battute politiche poi si parla di calendari e cani gatti e cose varie questo è spiegabile perché in mano chi ha in mano l'informazione sono 5-6 grandi corporation per quanto riguarda l'America e in Italia è ben utile parlarne lo sappiamo lo sappiamo tutti le foto le foto anche se particolarmente dure e crude abbiamo deciso di mandarle in onda perché avevano un valore documentale mandare in onda delle immagini molto molto tragiche molto pesanti senza un valore documentale non l'avremmo mai fatto sarebbe stato sciocco farlo avevano una loro valenza secondo me sono ricordano quelle delle dei campi di concentramento secondo me passeranno la storia anche questa alla lunga volevo solo dare un'informazione che è una curiosità però si riallaccia molto bene a quello che diceva adesso Silfrido c'è uno studio di Medici Senza Frontiere realizzato insieme all'Osservatorio di Pavia sullo spazio che hanno dedicato nel mese di luglio e agosto a tre argomenti di telegiornali al plurale quelli RAI media 7 e la 7 sulla carestia in Niger i telegiornali hanno dedicato 19 minuti sugli animali domestici questo tema che prima citava 2 ore 16 minuti sul gossip dei VIP 11 ore 35 minuti quindi lo spazio dedicato alla crisi del Niger che coinvolge circa 3 milioni di persone è pari allo 0,07% di tutto il materiale giornalistico mandato in onda in quei due mesi che ha somma 435 ore 51 minuti di questi 19 minuti e qui come dire spezziamo la famosa lancia per la RAI con tutti i guai che ha dei 19 minuti 10 minuti sono della RAI in particolare 2 minuti del TG1 2 minuti del TG2 e 6 minuti del TG3 e la 7 ha dedicato 8 minuti tutto Mediaset quindi Canale 5 Rete 4 e Studio Aperto hanno dedicato alla carestia nel Niger un minuto in particolare il TG5 avanti replica continuiamo il nostro giro no non replico no 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 la precarietà la ragazza che della precarietà io mi sento mi sento molto precario quindi appunto io non vedo un contratto giornalistico da anni veramente da anni nemmeno altro paradosso italiano quando stavo a Sciuscia avevo un contratto giornalistico io si fido lo sa benissimo che lavoro in RAI da tempo e e questa è un'altra delle anomalie l'approfondimento il cosiddetto approfondimento il giornalismo d'inchiesta che nella televisione ha uno spazio che viene affidato alla rete non prevede un un contratto giornalistico qui aveva un contratto di esclusiva a partita IVA quindi io sono uno io appartengo al grande mondo glorioso delle partite delle partite IVA e quando si trattò proprio anche del del fase Afghanistan della guerra il paradosso è che noi non potevamo andare solo gli interni potevano andare perché non avevamo non essendo a contratto giornalistico con l'azienda RAI la signoriamo coperti dall'assicurazione da inviati in zona di guerra quindi sono ho fatto tante cose ho fatto ho curato viva Zappatero ho fatto un documentario su per l'espresso toghe sporche sul processo Imi Sir Lodo Mondadori ho fatto delle scelte non voglio essere passare per per banale o superficiale però forse sarà l'età ma preferisco fare giornalista senza il contratto giornalistico che avere il contratto giornalistico e poi sentire che non posso fare il giornalista fino in fondo perché l'altra domanda che arrivava poco fa era perché continuate forse sempre tu l'hai fatta adesso sono un po' stordito ma perché continuate a fare il giornalismo di inchiesta e credo che sia giusto quello che è stato detto c'è là nel DNA e vuole raccontare delle storie io ho proprio voglia di raccontare delle storie allora in un momento in cui in una redazione di un grandissimo di un grandissimo importantissimo programma di approfondimento del servizio pubblico mi viene chiesto quando mi hanno praticamente assunto a fare l'inviato quali temi stavo lavorando e io comincio a dire devo essere pazzo ho detto mafia e loro hanno detto no la mafia no poi l'altra cosa hanno detto qualche anno fa sto lavorando sul mondo del lavoro articolo 18 no conferati no al che io ero ancora più gioco e hanno detto vabbè io mi allontano un attimo devo fare due tre cose quando voi avete un'idea su cosa volete che io lavori mi chiamate e vediamo se cioè esiste quello che il già citato Travaglio autore di regime di tanti altri libri di successo ha definito il recinto cioè tu puoi stare benissimo lì e sono sicuro di non offendere Silfrido ma è un recinto in qualche modo anche Rai News 24 perché nella stessa azienda tu fai quello che hai fatto e l'abbiamo già detto l'azienda poi non ti non ti senti sostenuto da colleghi che hai lì a tre quattro porte di distanza però questo non è un'apologia della precarietà io sono anche abbastanza stufo di questo sistema cioè sarebbe bello avere anche dei contratti avere degli editori che credono in te però non sono non so mi sento un po' il più pessimista sono il più giovane mi sembra di essere il più pessimista ma io credo che veramente tutto quello che hanno detto i miei colleghi è per me un onore essere qui vicino a loro io ho ammirato tantissimo il lavoro di Fabrizio per esempio c'è una parola che se dobbiamo portarci dietro tutti è tempo tempo allora per fare quello che ha fatto Fabrizio per fare quello che ha fatto Siffrido per fare quello che ha fatto Giovanni ci vuole tempo quando tu raccontavi delle tue chiacchierate con i pescatori cioè tu avevi dietro un direttore qualcuno che ha detto ok vai e questo è il rischio dell'inchiesta cioè tu devi prendere una risorsa un giornalista che deve essere preparato documentato ad andare a stare su una storia prendendosi il rischio che questo giornalista dopo qualche mese torni e dica guarda sai cosa c'è a Portopalo mi sono fatto le belle mangiate di pesce ma non ho trovato nulla poteva benissimo succedere e non è che il direttore ti prenda schiaffi ok c'è qualcos'altro su cui vuoi lavorare allora questo io ripeto ma non l'ho mai visto cioè io ho iniziato a Diario della settimana e lì c'è questo spirito ma stiamo parlando di Diario della settimana cioè io andavo a rompere i coglioni ad Arkham da solo con la mia macchina partendo da Bologna sono di Modena ho molleggiato la macchina a Bologna ma non io pensavo che invece col tempo avrei trovato un direttore che gli ha detto vai questi sono i soldi prenditi il tempo sentiamoci e questo non c'è almeno nelle redazioni a parte appunto chiusciare ma anche lì non è abbiamo grandi inchieste conoscitive quelle che sui libri che studiate magari viene chiamata l'inchiesta conoscitiva abbiamo grandi esempi nel passato è scomparsa anche quella ma l'inchiesta sociale io penso a Pierpaolo Pasolini a Comizi d'amore o ai grandi pezzi di Giorgio Bocca ma l'inchiesta la vera inchiesta investigativa è praticamente scomparsa ci sono troppi troppo pochi esempi secondo me e i filmati e le intercettazioni che hai visto tu come caspita le abbiamo avute le abbiamo avute coltivando delle fonti ognuno ha lo sapete meglio di me delle fonti in questo caso molto probabilmente devono essere fonti legate al mondo della magistratura quindi sono e la cosa che tu dicevi non sono pubblici no sono assolutamente pubblici ti dico che tutto quello che è andato in onda tra virgolette che è stato montato nella mafia bianca è pubblico nel senso che è un atto depositato in un dibattimento in corso è assolutamente pubblico ma noi stavamo chiudendo il montaggio della mafia bianca e si faceva tanto chiacchierare sui giornali della già citata legge sulle intercettazioni che vedeva tutti d'accordo ovviamente perché anche i diesini erano coinvolti nelle intercettazioni quindi c'era noi ci siamo veramente spaventati perché il nostro lavoro è per gran parte si fonda sulle intercettazioni ambientali addirittura filmate Marco Travaglio e Peter Gomez già sapevano e l'hanno già raccontato di queste cose ma un conto è raccontare che c'è un video dove si vede Totò Cuffaro che alla mattina alle otto e mezza incontra un condannato con una condanna definitiva per mafia un conto è appunto scriverlo un conto è vederlo e la difficoltà è stata mettere le mani su quel filmato però non abbiamo come credo che sia giusto violato nessuna legge nessuna legge stavamo correndo il rischio di violare una schifosissima legge che stavano cercando di fare in tempi strettissimi ma c'è andata bene alle due questioni poste dal nostro pubblico precarietà e libertà va beh insomma ricerca dei materiali ma aggiungo una terza nel senso che Giovanni Maria Bellu come dire oltre che farlo il giornalismo investigativo un po' anche lo teorizza scrivi abitualmente sui problemi dell'informazione insegni anche ecco se puoi aggiungere qualcosa di più da questo punto di vista no no non insegno no no va bene ma sono cose estemporane sì sì no no sono no cioè chiaramente comunque la cosa il tema mi interessa ma mi interessa soprattutto per un aspetto perché è credo una chiave per ragionare sul nostro sul nostro paese insomma no infatti volevo fare un po' considerazioni cioè la prima è questa anche se capisco benissimo il senso che che noi attribuiamo alla definizione del giornalismo investigativo io diciamo credo che non la condivido poi in realtà tanto anche se ne capisco il senso ne capisco forse anche la necessità e diciamo tra le ragioni per cui non la condivido ce ne sono alcune che vanno a confluire proprio nella domanda che è stata fatta a proposito della precarietà cerco di spiegare qual è il passaggio cioè io penso che se noi accettiamo questa definizione cioè accettiamo l'idea che esistono i giornalisti e i giornalisti investigativi no? intanto consentiamo che diciamo ci possono essere dei giornalisti che non fanno inchieste magari non fanno neanche le verifiche e c'è questa categoria così informe dei giornalisti da una parte e poi dei giornalisti investigativi quelli che fanno le cose proprio spettacolari gli approfondimenti dall'altra nonostante questa definizione questo ruolo diciamo noi che siamo qua presenti possa fare sia anche l'usinghiero diciamo così in realtà io credo che deve essere chiaro ecco che il giornalismo è sempre investigativo nel senso che anche quando arriva un comunicato la cosa più banale un comunicato va fatta perlomeno l'investigazione di verificare se chi lo firma effettivamente l'ha mandato e non dico questo per fare così un sofisma dico questo perché quella è una molecola di verifica il giornalismo è sempre verifica io credo che la differenza tra quello e una grande inchiesta di giornalismo investigativo sia una differenza di tipo quantitativo cioè ci sono sempre più verifiche ma non una differenza di tipo qualitativo cioè la verifica va sempre fatta questo ripeto è importante perché adesso per dire una battuta il fatto di dire che esiste il giornalismo investigativo consente magari di dire che Emilio Fede è un giornalista perché ci sono quelli investigativi quindi ci sono gli altri che possono anche fare i papagalli del loro datore di lavoro e comunque sono giornalisti ecco questo è il passaggio la precarietà cosa sta a significare sta a significare che esistono delle figure che stanno intanto sotto continuo ricatto e la precarietà è poi anche come dire figlia della situazione attuale delle redazioni dove c'è ed è una tendenza credo degli editori ed è un problema di questo contratto cioè dove c'è l'idea di fare una massa di persone che producono il giornale dei veri manovali che infilano le notizie nel giornale facendo delle verifiche elementari o addirittura quasi senza farle nel senso che prendono notizie da service che le avrebbero già verificate questa è da una parte e poi dall'altra parte affidare le inchieste le cose o a grandi firme esterne o comunque a o addirittura anche dei service oppure o a degli scrittori oppure a pochi che ormai hanno considerato una posizione nel tempo senza consentire un passaggio da lavoro diciamo del desk al lavoro della scrittura dell'ideazione e così via questa è una tendenza che noi vediamo io credo che noi come giornalisti dovremmo trovare anche delle soluzioni creative per superarla faccio un esempio e magari farei una domanda a te come presidente di un ordine come diciamo persona che conosce certi meccanismi segretario dell'ordine persona che conosce certi meccanismi certamente meglio di me cioè se noi facciamo abbiamo 20 redattori e facciamo 30 pagine no? evidente che stiamo fornendo un prodotto scadente no? se perché vuol dire che saranno state buttate lì dentro le notizie senza alcuna verifica se noi abbiamo 50 redattori e facciamo 40 pagine daremo un altro tipo di prodotto ecco potrebbe essere si possono fissare dei criteri oggettivi noi potremmo come giornalisti stabilire un marito di qualità dei giornali dire se un giornale viene fatto con così poche forze evidentemente una specie di fotocopia è un assemblaggio di altre cose ecco se invece c'è appunto il tempo perché per fare le inchieste ci vuole il tempo è benissimo cioè ci vuole la possibilità che all'interno del giornale non necessariamente poi le stesse persone anzi se un giornale ha una buona formazione dei suoi quadri questo lavoro lo possono fare diverse persone perché saranno tutti i giornalisti non ci saranno i giornalisti investigativi e gli altri ci saranno quelli che di volta in volta approfondiscono le cose questo secondo me è l'ideale a cui dovremmo tendere come categoria sì anche se ammetto che è un po' complicato perché per esempio il resto del cardino durante i giorni di sciopero è uscito avendo a disposizione 25 giornalisti su 150 ovviamente il giornale era ampiamente incompleto però è uscito e se si denunciasse l'editore per frode in commercio questo è frode in commercio secondo me dovrebbero farlo i lettori cioè se i lettori i lettori per l'appunto dovrebbero dire qui c'è una frode perché io ho comprato un prodotto e me ne è stato dato un altro anche perché dentro c'erano appunto paginate che erano in freezer da mesi si capiva come dire dall'attualità dei commenti perché erano commenti sull'ovvio scusami posso solo perché verissimo è molto raffinato che è quello che ha detto Giovanni il discorso che il giornalismo è sempre investigativo infatti allora perché mi capita di leggere saggi appunto problemi dell'informazione anche situazioni come questa ma infatti invece di domandarci se l'inchiesta è morta domandiamoci chi scrive di queste cose se il giornalismo è morto perché così magari questa confusione non c'è più perché io trovo che il problema sia proprio il giornalismo sono d'accordo ma il giornalismo è di tutti i giorni chiarissimo qualcun altro ora o mai più anche perché l'ora si è fatta tarda sì tutto talce vero? perfetto allora io direi che a questo punto non ci resta che ringraziare i nostri ospiti a cui farei un applauso Giovanni Maria Bellu Fabrizio Gatti Silfrido Ranucci e Alberto Nerassini nella consapevolezza nella consapevolezza comune che il loro giornalismo non intende assolutamente abdicare a quella che è la dignità dell'uomo grazie a tutti grazie a tutti